amici di chetto web italia buona domenica ciao ciao attenzione perché oggi realizzeremo realizzeremo qualcosa che ci viene invidiato da tutto il mondo invidiato copiato taroccato a pizza a pizza capo marola coppa capo marola coppa e tu voleva a pizza a pizza a pizza capo marola coppa a pizza e niente più avete capito faremo spaghetti a bongo no avete capito bene faremo una pizza fatta con una farina proteica sempre una farina che ha 30 grammi di proteine e 46 grammi di carboidrati per 100 grammi non sono pochi ma non sono neanche tante se consideriamo che è una farina normale minimo 70 70 80 ingredienti faremo un chilo di farina quante pizza otteniamo con un chilo di farina ma allora di quelle tonde 8 8 10 se ne mettiamo nella teglia da forno la teglia la teglia la classica teglia da forno ne faremo 4 750 ml di acqua tiepida tiepida prendiamo la farina la apriamo eccola qui io la collaboratrice adoriamo vedere il siamo la versiamo tutta quanta nella una capiente ciotola perché poi lieviterà secondo me qui traboccherà anche andiamo andiamo a mettere il nostro lievito nell'acqua faccio a pezzettini anche più grossi tanto quello si scioglie tutto beh io ho sposato la cultura giapponese ho fatto un corso di 6 mesi spezzare il lievito come quando e perché esatto prendiamo la carta gli diamo una mesciatina col bicchiaretto e sciogliamo facciamo sciogliere il nostro lievito allora a lievito sciolto a lievito com'è? sciolto ok andiamo a versare il tutto nella nostra farina proteica ok bravo ecco qua anche eventuali depositi li butti tutti dentro così perfetto ecco la nostra cucchiarella di legno la stessa che usate la stessa che useremo per dare in testa dei nostri marelli no la stessa che dopo sarà percosso andiamo a mischiare ad amalgamare si sta sprigionando un profumo di lievito che non a tutti piace a me piace a chi piace? ecco io già vedo che l'acqua è poca e la papara non galleggia ne vado a prendere collaboratrice ecco facciamo questo appuntino ricordate che la farina proteica assorbe molto più acqua della farina normale rispetto alla farina normale quindi andremo ovviamente ci regoleremo perfetto e aggiungiamo ecco la mia collaboratrice che da 2000 euro siamo passati a 2500 euro al giorno mi ha portato lei ha molta fantasia mi ha portato un po' di acqua ok continua acqua d'impasto e questa prima fase di solo lievito si incorpora l'acqua con la farina con la farina e non vi preoccupate di eventuali grumi perché adesso andiamo alla farina incorpora voce del verbo incorporare indicativo presente io taglio tutto e gli incorpori noi noi incorporiamo noi incorporiamo e si incorpora cosa fa cosa si fa dopo ecco perfetto adesso l'impasto è grezzo l'impasto è grezzo è grezzo ma è pronto per la fase 2 adesso aggiungiamo un po' di sale e un po' di olio a occhio a occhio un bel giro di olio un bel giro di olio attenzione che non ha il cosiddio ancora un pochetto bravo basta così on poi anche qui ci regoliamo se necessita aggiungiamo esatto un pizzico di sale non sia troppo pignolo pignolo pizze che passi non vanno per tos quindi mi raccomando pizzichi pizzichi ecco andiamo ancora adesso questo lo deve posare adesso è arrivato il momento un attimo solo no 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 è stato arrivato il momento di usare le mani adesso devo usare le mani guardate bene incorporate tutta la pallina sotto che bravo sembra che non abbia fatto altro che pizza tutta la vita sempre tante storie tante storie e tu voleva abizza 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 capumarola 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 non c'è ancora però tempo 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 arriverà il sapore di un bacio più dolce na 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 c'è anche io vedi non ce la fai eh collaboratrice venga anche lei senti vuoi metterle in le mani in pasta anche tu posso fare una proposta? da piccolo sono capito dalla cura ma quello ce ne eravamo accorti e dicono la verità c'è buongiorno è arrivato un commensato il nostro impasto una volta levitato trabocchi dal nostro contenitore l'ho diviso in due vedete e praticamente faccio due panetti l'impasto è omogeneo rimane un po' appiccicoso però non aggiungiamo altra farina ma mangiamo con un po' di olio collaboratrice chi lo so ok dai tanto è dentro andiamo ecco vedete come è bello liscio questo è il primo facciamo anche il secondo adesso gli facciamo la crocetta sopra ecco è uno è due è uno è due io passo con la pellicola non ho parole no bisogna fare così non ci sono parole penso che non serva dire due non ci sono parole faremo stasera faremo una focaccia e una pizza è contento il cuoco quando ha le mani unte è la sua passione ci dica vabbè comunque vi state guadagnando i soldi che vi sto dando ma ma lui scusi i soldi che ci sta dando scusi ma lei percepisce soldi da quest'uomo no zero solo tanto da fare in più a proposito pulirà senta la domanda la domanda è adesso voglio una risposta vogliamo una risposta precisa guardi qui guardi qui mi facci una domanda mi facci quando avrà finito di fare pulirà no no pulirà mi sto pulendo le mani ma pulirà tutte le teglie e le cose pulirà io non voglio pulirà non voglio pulirà pulirà potevo dire sì lo dico pulirà questa volta non pulirò cascasse ne cascasse la patata sulla capoccia non pulirò ma a Natale a Natale aveva detto che forse avrebbe pulito a Natale sì ma a Natale ogni scherzo vale no a Carnevale è passato Carnevale quindi la risposta definitiva è che non pulirà no non pulirà le lecce ma ammazzano non resiste bro ce l'abbiamo provato sono triste però sono triste sono fermo sulle mie decisioni ragazzi lasciamo tra un'ora adesso sono le 16 ecco alle 17 alle 17 impastiamo e rimettiamo a lievitare intanto lasciamo riposare questa nostra creazione è passata un'ora e mezza circa questo è il risultato vedete uno dei due panetti uno dei due panetti in altro è qua questo tiriamo fuori il nostro che bello guardate guardate com'è ma che bello guarda ecco qua adesso noi andremo a fare un'operazione per favorire lo sviluppo della maglia glutinica eh? che roba è? sto suggerendo allora vi spiego che roba è più in modo più dettagliato fra un mese verrà indetto un corso favorire lo sviluppo della maglia glutinica come? quando? e perché? ma lei ride ma io glielo farò fare scrivetevi io glielo farò fare il corso scrive bravo che l'ha fatto sta pizza? e due perché fa questo lavoro? e tre per favorire lo sviluppo della maglia glutinica senta lei maglia glutinica a noi non lo dice e rendere l'impasto più digeribile bravo soffice e con una manovrabilità dobbiamo rifare la pallina che faccia qualche piega schiacci un po' faccia un po' bravissimo facciamo una piega bravo di là bravissimo pallina fare queste pieghe aiuta a sviluppare la maglia glutinica va bene così è spuntata una teglia che chissà da dove che caso strano è già foderata di carta forno sono i miracoli ecco dai forza preparatemi sta teglia ma guardi che non sta in che sala operatoria lo faccio io perché lei dorme preparatemi la teglia quello dorme io vi licenzo tutte e due non può essere sta cosa non è un problema noi ce ne andiamo in vacanza esatto con i soldi che c'ha dato possiamo andare a finire di smanacciare quello impasto lo mettiamo al centro della teglia e lui fa fare una capriola bravo oh senti non c'è bisogno che lei mi suggerisce se lei non ascolta non faccia ferma non faccia emozionare la carta forno stia ferma si stia tranquilla si stia tranquilla si io sto tranquillissima si stia lascia giù questo lo schiaccia un pochetto ecco e lo lasciamo coperto di pellicola lo lasciamo riposare ancora per un'altra oretta mi raccomando fateli evitare in un luogo caldo e asciutto vivere senza malinconia vivere senza malinconia vivere senza malinconia bravi cosa ti fa papà che bella vi amo vi amo tutti viva la vita viva la pizza ragazzi collaboratrice hai bisogno di qualcosa di più drastico delle gocce il nostro impasto per pizza è pronto allora eccolo qua questo lo devo ancora stendere intanto io ho steso questo qui andremo a fare andremo a fare una focaccia quindi non metteremo pomodoro non metteremo nient'altro che il necessario e poi la mangiamo con la mortazza vedete che io con le mani l'ho tutta quanta come tastata buccherellata no non c'è il buco è stata tastata lo dica abbia il coraggio di dirlo cosa ha fatto come una piovra così ma lei ha delle deviazioni verso le focacce vedete queste qua sono le mie impronditi allora adesso guardate andiamo ad aggiungere su questa focaccia un pochettino di rosmarino ma l'ha coltivato lei questo rosmarino questa rosmarina che abbiamo qui nel nostro giardino di casa qui negli avvallamenti che ho praticato con le mani è un'emulsione di acqua e olio serve a depositarsi nei buchi e poi creerà quell'alveolatura dell'impasto che vedremo dopo ecco qua qui abbiamo finito adesso ci andiamo a mettere un po' di sale grosso attenzione non esageriamo perché poi lo troviamo sotto i dentini quando andiamo a mangiare sì se preferite il sale fino però il sale grosso da quella ruvidità abbiamo preriscaldato il forno a 250 gradi e adesso tra un po' andremo ad infornare tutte e due in una volta sola adesso vi faccio vedere praticamente come stendere questo tipo di pizza non useremo il mattarello facciamo questo lavoro vedete questo lavoro cuoco si unga leggermente le mani di olio per favore i bordini siamo pronti a condire nel frattempo dica cosa ha preparato qua nel frattempo abbiamo già preparato un bel sughetto pomodoro pastate pomodoro di ottima qualità di ottima qualità origano e sale e un po' di olio sale cubù e un goccetto di olio poi ovviamente c'è la mozzarella sono 300 grammi di mozzarella fior di latte ben ben strizzata e il nostro basilico fresco fresco profumo d'estate poi andremo ad aggiungere ancora un pochettino di origano torne ancora la campagna o forse no la sveglia mi guarda non so c'è l'odore che la pizza sale al naso veramente sento che profumi ci vuole amore amici amore sentite il contatto il contatto qui non è il mio corpo che tocca la pasta è la mia anima vedete e lei lo sente che lo sto facendo con l'anima lei si plasma ecco eh ecco bravi tutti tutti con le mani uniamo le mani come è una pizza così non l'avevi fatta nessuna ragazzi io non l'ho mai vista però una pizza piena di amore capito? ok perfetto adesso è pronta terminato questo delicio c'è un buco capito come si fa? ok ma poi esagerate con la pianola ci siamo fatti un po' prendere una mischiatina do una mischiatina guardate i colori guardate il bianco il pomodoro e guardate e non potete sentire il profumo di questo basilico è vero lo sento lo sento lascia il borghino per il cornicione lo sento lo sento ci stanno guardando con l'anima lo sentono è vero è vero perché noi ci stiamo mettendo l'anima è vero e loro ci stanno guardando si diceva prima col cuoco che quando si cucina e questa è una cosa verissima bisogna sentire il contatto del cibo e mettere proprio la passione nel cibo perché mi pare che non l'abbiamo fatto lo sto dicendo ma devi sempre contraddire c'è sempre da dire io le scalo lo stipendio ma te lo meno scali pure quello che vuoi io ne metto la multa siamo stati alla multa collaboratrice scusi cuoco la scuola di pensiero delle pizze prevederebbe di mettere ma che io non prevederebbe di mettere non la guardo la mozzarella solo a metà cottura ah ok però non la mettiamo adesso perché non ci non ci interessa che sia un po' crosti che faccia ruscatiello anche per anche per ma la nostra io non sono mai nato e non morirò mai no non morirò mai highlander ma non sono neanche mai nato e neanche morirò mai highlander mi rigenero continuamente non so neanche chi sono non so dove vado non so dove vengo le gocce ah quanto è bella quanto è bella la pizza non vale nulla esatto adesso l'ultima vedetemi sono sfinito e da quando abbiamo aperto il canale che rompeva il puppen con voglio far la pizza voglio far la pizza voglio far la pizza dai e vai bravissimo finocchio eccolo qua a posto e adesso andiamo non ci resta che infornare andiamo a infornare questo papolavoro 3 2 1 bravo bravo incastrato arrivederci 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 ciao ciao pupetta ecco qua guarda siamo pronti e anche pupetta è ansiosa non vede l'ora di assaggiare questa meraviglia allora la pizza è forno sta terminando la cottura questa è la focaccia con la mortadella al pistacchio tagliata allora dovete sapere che la morte della morte della morte della mortadella con la focaccia se non siete di Roma e dintorni non la chiamate pizza bianca la chiamate focaccia giuseppe pupetta aspetta porta pazienza porta pazienza fai attento perché è calda guardate ragazzi questi giovani di oggi guardate ha violatura si parecchio vedete che meraviglia aaaah aaaah a sorgere l'abbiamo vista poi commensale aaaah aaaah già gli ho dato una pozzigliata voglio dare un altro in diretta che è come è collaboratrice eccomi che bontà eccellente che bontà mmmm la di santo dio mmmmm 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 mmmm è meravigliosa ma che bontà ma che bontà guardiamo ti piace il giorno ma buona ciò che mi manca il coltello Sì, mi ce l'ho avuto Eppure sta mortadella è bella fresca E' super fresca Ed ecco la meravigliosa creatura Un applauso al Cuoco, la sua prima pizza Bravo, io ho una manima Applaudio sulla Gianna Bravo Giuseppe Tagliamo e ci vediamo a taglio effettuato Perché la situazione è scottante E' arrivato il momento dell'assaggio Stanno per assaggiare tutti E sentiremo il parere di tutti tutti Anche di Gioe Sì E' buonissima, io l'ho assaggiata Che buona Perfetta Squisita Com'è? Squisita Guarda io Gianna, com'è questa pizza? Perfetta, perfetta Buona, squisita Buona, buona Assaggiamo Buona, vero? Buona, buona Buona Buonissima Buona Bravo, Cuoco Bravo Io la definirei Galattica Lei come la finirebbe Margherita Lei? Super Margherita Isso Basilico Basilico Giuseppe Essa Essa come la Speciale Giuseppe Com'è la pizza? Com'è la pizza Giuseppe? Come deve essere Giustamente Pizza Buona Buona Che è speciale Che è speciale Bebi Che è buona Che è buona Cosa direbbe Cracco Signor Cuoco Cracco Direbbe Bebi Mo'è Ma la pizza è mo'è Salutiamo i nostri amici Che tu vuoi abitare Salutiamo i nostri amici Che tu vuoi abitare Amici cari È arrivato il momento Di salutarci Con questa meravigliosa pizza Che vi invito a fare Perché non ve ne pentirete Vi saluto insieme ai miei amici Ciao E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao Ciao a tutti Ciao Vi voglio bene Ciao